mi servono altre munizioni ecco a te sei in debito amico ti ringrazio li colpirò in testa col mio aa12 ecco a te sei in debito amico cazzone su una scala da 1 a 10 sono deluso 11 ci servono soldati migliori la fuori fondamento nemico ciao ragazzi se il video vi è piaciuto come al solito mettete un bel polliciazzo su lo sappiamo è anche questo un po breve ma non temete che recupereremo senz'altro domenica ve lo promettiamo